L'incontro in prefettura sindaco è stato positivo? Positivo per la gravità della situazione, più che altro abbiamo fatto il punto della situazione perché ancora è molto nebulosa tutta la vicenda. C'è solo una certezza, questi ragazzi sono per strada e sicuramente il futuro non è così roseo per loro come lo è per tutte le persone che vengono licenziate da un'azienda. E' vero che lei ha contattato la Carrefour nazionale? Sì, ho avuto modo di contattare l'ufficio stampa che mi ha messo in contatto con la Carrefour Italia. Spero lunedì di avere un contatto diretto anche con gli uffici amministrativi e gli uffici legali della Carrefour per poter capire la strategia per andare avanti, soprattutto per capire che cosa sta combinando questo imprenditore che a quanto abbiamo, ci è dato sapere, non ha comunicato ancora ai sindacati nulla e non ha comunicato neanche a Carrefour Italia la chiusura. Carrefour Italia mi ha confermato che ha avuto contezza della chiusura di questo esercizio dalla stampa. So che hanno fatto una nota stampa dissentendo da tutto quanto è accaduto, però certo è oggi Carrefour Italia che risulta, indipendentemente dal gestore del franchising, Carrefour Italia che è il marchio che oggi viene coinvolto in una vicenda che chiaramente coinvolge la città di Crotone, coinvolge i lavoratori. Io ho voluto oggi riunire i capigruppo del Consiglio Comunale che hanno esternato tutti la solidarietà ai ragazzi ed è giusto che lo dica che sono stati loro anche sensibili. Abbiamo fatto una serie di ipotesi che abbiamo messo a tappeto per cominciare a ragionare sul domani perché adesso bisogna cominciare non solo a vedere quello che sta accadendo e mettere in fila quello che sta accadendo con quello che bisognerà fare il domani insieme ai sindacati e insieme ai lavoratori. Un fatto drammatico perché 52 persone della città di Crotone, 52 lavoratori, quindi 52 famiglie rischiano definitivamente di perdere il loro posto di lavoro. Alcuni dei 52 sono impiegati da oltre 20 anni, quindi la situazione è drammatica e diventa ancora più drammatica quando si apprende che la comunicazione di un imminente licenziamento è avvenuta tramite addirittura un WhatsApp. Quindi questo è un fatto gravissimo, è un'attività che è aperta nel nostro territorio, che è utilizzato le nostre risorse umane, professionali e che improvvisamente senza dialogare, confrontarsi, concordare un percorso con nessuno, né con le parti sociali né con i lavoratori stessi né con le istituzioni rappresentative di questo territorio decide improvvisamente di andare via. Quindi questo ovviamente non è accettabile. Io stessa stamattina con il sindaco Pugliese siamo andati a far visita ai lavoratori che stanno presidiando il punto vendita che in questo momento ha le sale cinesche abbassate. I lavoratori hanno comunicato che resteranno lì con un presidio fisso, anche notturno e che comunque la loro battaglia intendono continuare a portarla avanti per attirare l'attenzione e per evitare che si spengono i riflettori su questa vicenda.